Ciao ragazzi bentornati su top prodotti recensioni prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Oggi andremo a vedere i migliori orologi per donna scontati presenti su Amazon. In quinta posizione troviamo l'orologio di marca Festina, un orologio molto semplice e alla moda indicato per chi ha un polso piccolo, questo orologio ha il cinturino in pelle nero e il quadrante argentato, orologio elegante e di classe, molto leggero per non dare fastidio quando lo si indossa, lo trovi scontato del 50% link in descrizione. In quarta posizione troviamo l'orologio da donna fossil, disponibile in nove diversi colori, costruito in acciaio inossidabile sia il cinturino che il resto dell'orologio, presenta un quadrante molto carino e particolare con ai bordi delle decorazioni, è presente anche una piccola lente di ingrandimento sulla data per facilitarne la lettura. Orologio elegante e pratico lo troverete scontato del 30%, ideale per un regalo. In terza posizione troviamo l'orologio Daniel Wellington. Disegnato in Svezia questo orologio presenta uno stile minimalista e allo stesso tempo molto elegante, con il suo cinturino in maglia milanese regolabile da un minimo di 150 ad un massimo di 205 mm. Ottimo orologio da usare per le situazioni più eleganti o come regalo per una vostra amica. Lo potete trovare scontato del 50%, link in descrizione. In seconda posizione troviamo l'orologio analogico per Donna Guess, orologio realizzato con acciaio inox argentato, con un'impugnatura dal diametro di 37 mm, cinturino realizzato in pelle bianca, con il quadrante argentato con un triangolo glitterato all'interno e con lancette argentate, orologio molto elegante ideale per una festa, lo trovate scontato del 50%. In prima posizione troviamo un orologio Michael Core, orologio molto elegante realizzato in acciaio inossidabile colore oro rosa, con una resistenza all'acqua fino ai 50 metri potrete tranquillamente utilizzarlo nelle acque basse, orologio semplice e gradevole da guardare con movimento al quarzo con display analogico a tre sfere, lo trovate scontato del 30% link in descrizione. Bene ragazzi anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate tutti i link degli articoli in descrizione e se siete interessati, grazie per aver visto tutto il video ci vediamo al prossimo.